Il Centro Trisi è un centro importantissimo da un punto di vista sportivo e grazie a un investimento di un milione e mezzo, a cui seguirà un'ulteriore somma di 750 mila euro ottenute tramite la partecipazione a un bando. Abbiamo in qualche modo migliorato in tanti aspetti un centro già importante. Sono stati riqualificati gli spogliatoi, ma non solo, sono stati realizzati due campi da paddol, campi in terra battuta che erano esistenti qui nella struttura, sostituiti i tendoni e fatto tanto altro che gioverà alla struttura, ma a tutti coloro che la frequenteranno. La gestione dell'impianto è stata assegnata all'azienda speciale di Montesivano perché il centro sportivo deve essere anche punto di riferimento per la socializzazione. Sarà una sfida perché ovviamente è la prima volta che ci cimentiamo in questo ambiente, però abbiamo già molta motivazione all'interno della squadra che abbiamo costituito e quindi vogliamo e abbiamo raccolto questa bellissima sfida e speriamo che questo luogo non sia soltanto un luogo di sport, ma anche di aggregazione, di integrazione e di scambio e di crescita, quindi senza limiti di età, dai bambini agli anziani, anzi dove magari nonno e nipote possano svolgere delle attività sportive insieme e anche momenti ricreativi. Sindaco, chi è giusto ringraziare per una giornata come questa? Sicuramente il settore tecnico, il dirigente, il tecnico comunale Mirko Parlione che ha seguito i lavori, le editte che si sono alternate, l'azienda speciale che ha seguito al fine della gestione, ma un ringraziamento particolare mi sento di rivolgerlo al dottor Francesco Trici che tanti anni fa ha voluto realizzare questa struttura e una volta deceduto ha regalato alla città e al comune questo bellissimo centro.